Di fronte alla chiusura di Madrid su ogni ipotesi di referendum, il presidente della Catalogna, Artur Mas, ha presentato un piano in sei punti per arrivare all'agoniata indipendenza di questa regione della Spagna. Davanti a 3.000 persone si è detto pronto a convocare elezioni anticipate che vedano un fronte unito degli indipendentisti. E' arrivato il momento di usare l'unico strumento a nostra disposizione per ottenere il referendum che ci è stato negato, ha detto Mas. Convocherò elezioni anticipate con l'obiettivo di creare le condizioni per il referendum. Alla provocazione non ha reagito il premier spagnolo Mariano Rajoy, atteso sabato a Barcellona per la prima volta dopo la consultazione simbolica del 9 novembre scorso, con la quale Mas ha sfidato il divieto imposto dalla Corte Costituzionale. In quell'occasione si sono espressi a favore dell'indipendenza poco più di 2 milioni di catalani su oltre 7 milioni. Nelle intenzioni del presidente della Generalitat, se la piattaforma indipendentista ottenesse la maggioranza assoluta dei voti, dovrebbe porre le basi di uno Stato catalano indipendente.